Anche la CGL di Bari si mobilita per chiedere un intervento urgente ed efficace contro il fenomeno delle dimissioni in bianco. Sì, la CGL di Bari come tutte le CGL e comunque molte associazioni di donne su tutto il territorio nazionale in concomitanza con la conferenza stampa nazionale ha chiesto un incontro al prefetto di Bari per sollecitare il reintegro della legge 188 che è stata l'ultimo atto dell'ultimo governo Prodi nella quale si stabiliva che le dimissioni dovevano essere date necessariamente con un modulo prestampato scaricabile solo dal sito del ministro. Il primo atto dell'ultimo governo Berlusconi è stato di cancellare questa legge per cui si è ritornati indietro di moltissimi anni e siamo ritornati nella vecchia pratica per cui molto spesso all'atto dell'assunzione viene chiesto al lavoratore o alla lavoratrice di firmare anche una lettera di dimissioni in bianco per l'appunto. Compagnie delle segreterie e delegate di Bari e dell'area metropolitana si sono date appuntamento a palazzo di governo per presentare al prefetto la lettera inviata al presidente del consiglio, ai presidenti di Camera e Senato, alla ministra Elsa Fornero, con la quale viene richiesto un intervento legislativo urgente ed efficace contro il fenomeno delle dimissioni in bianco. È una legge che praticamente mette le donne sotto il ricatto dei datori di lavoro. Concretamente come? Molti datori di lavoro fanno firmare queste dimissioni in funzione del fatto che se la donna si sposa e quindi ha un figlio subito dopo c'è questa dimissione in bianco quindi non viene protetta la maternità. E può essere anche una forma di non colpire le molestie sessuali che pure la casistica ci insegna sono assai frequenti sui posti di lavoro e soprattutto sui posti di lavoro dove il lavoro è privato e dove i dipendenti sono scarsi quindi c'è un controllo minore rispetto alle aziende più grandi. Il coordinamento donne della Cigiele di Bari si è unito alla mobilitazione del 23 febbraio in tutta Italia per il sostegno all'appello 188 donne per la 188. L'intento è quello di esercitare una pressione positiva sul governo, sul Parlamento ed in particolare sul ministro Fornero che sta predisponendo alcune misure di contrasto agli abusi ma di cui i contorni non sono noti. Quindi con il ripristino della legge 188 se ciò dovesse avvenire le donne si sentirebbero davvero tutelate sui posti di lavoro? Certamente sì perché c'è questa mannaia che sta sulla testa delle donne così come si diceva prima oltre al fatto di essere ricattate e così via sarebbero più libere di poter anche controbattere e essere anche più libere di poter in qualche modo esprimere la loro libertà anche all'interno delle aziende. Vedi come la maternità, la maternità è un diritto che la donna ha però vediamo anche come questa maternità potrebbe essere una mannaia per una perdita del posto di lavoro. Il problema non riguarda solo le donne, riguarda anche gli uomini quindi questa conquista che passa attraverso le donne perché dalle società arcaiche noi forse siamo state sempre le più battagliere sarebbe una conquista che andrebbe a beneficio anche degli uomini. La richiesta è quella di norme che prevengano e contrastino l'abuso nei confronti di giovani lavoratrici e giovani lavoratori al momento dell'assunzione quando capita che venga richiesto loro di firmare una lettera di dimissioni volontarie definita in bianco perché senza data la data verrà messa successivamente per mandare via quella ragazza o quel ragazzo di fronte ad una gravidanza, un matrimonio, un infortunio, una lunga malattia o la fine del periodo di incentivi per la loro assunzione. Ma naturalmente questa è una battaglia di civiltà che noi facciamo per tutti. Può capitare anche che a un ragazzo venga chiesto di firmare una lettera di dimissioni in bianco in modo che se un giorno gli dovesse per caso venire voglia di iscriversi al sindacato il datore di lavoro avrebbe facilmente la possibilità di liberarsene. Quindi ancora una volta sono le donne che avviano il primo passo di una battaglia di civiltà perché in questo paese di passi indietro in termini di civiltà e di democrazia se ne stanno facendo troppi e troppo velocemente e noi non ci stiamo.